Dopo la sconfitta esterna contro i Lions, il castrum Biannelli di Vigianello regola in casa l'aliano e continua a far valere la legge del campo amico. I ragazzi di Mr. Puli battono 4 reti a 1 un aliano che ha mantenuto bene il campo solo per la prima frazione di gioco. Poi i padroni di casa, nel secondo tempo, grazie all'ottima prestazione di Carlucci, si impongono sull'avversario portando a casa una vittoria importante in chiave classifica, mantenendo il passo delle prime. La partita inizia con i padroni di casa che ottengono un calcio di vigore per atterramento di tedesco in aria. Sul dischetto Carlucci non sbaglia. Il match è equilibrato con gli ospiti che provano a ritrovare il pareggio, che ottengono grazie a Fortuna. Nel finale di tempo, due tiri liberi sprecati per i padroni di casa, che lasciano il risultato sull'1-1. Nel secondo tempo, il Vigianello è più in partita e trova la doppietta di Carlucci, che porta il risultato sul 3-1. Il restante della partita racconta un aliano che prova ad accorciare l'infortunio di tedesco e gioia per i padroni di casa, che chiude i conti siglando il 4-1 finale per il castrum. È stata una grande sofferenza, come si vede anche dal mio tono di voce, quindi mi scuso. Comunque è stata una grande partita, grandissima prestazione. I ragazzi mi sono piaciuti e soprattutto sono contento per i bomber Carlucci e Gioia, che dopo tanti turni a secco finalmente sono andato in gol. Ma nel complesso comunque è stata una grande prestazione. Ci dispiace soltanto per l'infortunio corso a tedesco nelle battute finali della partita, però purtroppo è un episodio che ci può stare. È vero, è stata un'uscita scelerata da parte del portiere, però anche questo è il calcio. Comunque è una grandissima prestazione. Venivamo da due sconfitte fuori casa consecutive, quindi per noi era importante ribadire che il concetto che ha il boschetto è che in casa comandiamo noi, quindi qui sarà difficile per tutti venire a far punti. Per il momento stiamo mantenendo la parola data.